3, 2, 1, benvenuti ragazzi, io sono il Solina Santa Fox e siamo tornati all'interno della Minecraft Fox allora signori miei, il cancellone è pronto, è a posto, va solamente completato in maniera definitiva il che già è un qualcosa di buono, qua mob non ne abbiamo per provare a vedere oh guarda quanti ce ne sono lì ok, volevo vedere effettivamente come funzionavano gli attacchi della nostra nuova squad creata ecco, come non detto, no, no, lasciatemi stare, lasciatemi stare ok, ok, lasciatemi stare, oh mio dio, oh mio dio ragazzi dove mi sono incasinato, dove mi sono andato a mettere proviamo a dormire così casomai ne secchiamo un bel po' eh direi un po' di livelli gratis e frecce gratis, che male non fanno mai effettivamente ok signori, allora possiamo tornare no, non possiamo tornare, ecco, è un altro oh ciccio, ti devi staccare il moto però eh c'hai pure un arco potenziato tu ok che giustamente non mi ha lasciato, ma va bene allora signori, siamo tornati qua, mi è venuta una bellissima idea passatemela perché a me piace allora, partiamo subito nell'inventario io con me ho dove le ho mette? non le avrò mica lasciate qua dentro, no eh allora, riguardiamo piazzalo qua, ok le avevo lasciate qua dentro abbiamo delle bellissime slab, ma santa cosa ci puoi fare con le slab? signori, ci ho pensato, ci ho pensato è un duro lavoro ma qualcuno dovrà farlo allora, se noi invece che qua le piazzassimo a questa altezza già mezzo lavoro è bello che è completato quindi diamoci un po' da fare iniziamo a modificare tutte quante queste slab questa può rimanere così allora poi man mano che andiamo avanti il gioco anche un po' ci aiuta dandoci delle piccole possibilità, diciamola così questa slab la mettiamo qua questa la mettiamo qua e questa qua in modo che creiamo anche questa sorta di gradino questo qualcosa diciamo un po' carino, eh passate vanno sempre per buona signori, perché sennò qua ne la facciamo più ok qua mi resterà scoperto ma troveremo il modo troveremo il modo allora qua 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 e qua allora qui potremmo anche pensare di mettere una scala quindi qua ne mettiamo uno in più ho delle scalette fatte così non lo so, aspettate riprendiamo subito subito la nostra shulker perché non le metto mai al posto giusto allora rimettiamo qua la nostra shulker scalette non ne abbiamo fatte di pietra però abbiamo qua vicino il nostro intagliatore tranquilli tanto ci serviranno sicuramente allora non guardate qua lo scempio che ancora non ho rimesso le scalette le staccionate le staccionate allora ne può mettere una qua e una qua passatemelo va benissimo si 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 no no va benissimo anzi qua potremmo anche inalzare così un bel muretto anzi no tu non la tanto poi scenderemo giù a raccogliere tutto se ci sarà ancora ok va bene e quello che volevo fare adesso era modificare tutta quanta questa terra e provare a metterci della pietra quindi pala alla mano abbiamo la nostra pietra no dobbiamo anche andare a farci la pietra qua dentro non ce n'è no non ce n'è oh un bel gattino nero oh ciccio però non c'è la strega qua vicino quindi è un toccasana quante ne facciamo io direi un 14 facciamo anche di più una ventina ci siamo anche più tranquilli allora togliamo immediatamente questa terra sperando che non dia fastidio ok recuperiamo anche questa e per me così va bene adesso dovremmo fare la parte qua dell'ingresso passatemi anche questa ma io vorrei provare a fare così vediamo se funziona ok l'ingresso ancora problematico non è un problema ok già che qua funziona signori per me è tantissima roba uno qua e uno qua così andiamo a coprire il tracciato il tracciato di redstone che non voglio far vedere uno qua mi manca un'altra scala signori per quante per quante per quante ne ho fatte mi mancano e comunque dovrò farlo anche dall'altra parte perché sarà una sorta di gioco a specchio quindi facciamolo un altro po' perché le useremo parecchio ma farei anche un po' di questi guarda guarda che ci siamo allora torniamo indietro qua abbiamo tantissimo da coprire abbiamo detto che ci mancava di qua una scaletta ho fatto tech e qua per adesso per adesso va benissimo vogliamo provare a chiuderlo qua vogliamo provare a fare così sapete che non so se effettivamente sia la cosa giusta da fare in questo momento sono molto dubbio per questo sono molto dubbioso a meno che non proviamo a mettere una slab ma tanto anche qua sarebbe problemi vedremo 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 signori vedremo allora qua diciamo che inizialmente mi sta piacendo togliamo questi ok mettiamo della pietra deve essere tutto al 90% uguale come giustamente anche di qua si quindi va benissimo apriamo andiamo un attimino dall'altra parte chiudi tutto grazie allora di qua invece scende giù così va bene tu qua non nascondi nulla dietro tu si qualcosa tu lo nascondi allora prendiamo abbiamo il blocco di terra si abbiamo un blocco di terra e utilizziamolo per coprire da questa parte potrebbe andar bene da un po' di fantasia di terra va bene allora allora torniamo a noi tre quattro io ho visto sto goal e mi arrivare inizialmente mi era sembrato un creeper mi era venuto un mezzo infarto che cavolo ci fa un creeper qua dentro tutto è possibile tutto è possibile tu vai storto di qua e tu vai storto di qua signori qua ci va benissimo la terra tranquilli qui però togliamo la terra come vi ho detto l'abbiamo lasciata la volta scorsa perché ci piaceva l'idea di poterla togliere subito subito proviamo a vedere se si apre non da alcun tipo di problema va benissimo ok adesso dobbiamo rifare lo stesso giochino qua dieci scale ci bastano assolutamente no però possiamo impegnarci possiamo impegnarci allora possiamo iniziare a utilizzare forse le slab potrebbe essere qualcosa di molto più comodo in questo momento comodo eh non la soluzione migliore ma effettivamente quella più comoda e così la prima parte è stata fatta adesso con la nostra pala mettiamo una piccola pulitina qua ok ok si 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 piuttosto che mettere delle scale ma questo è solo perché sono sfaticato e non ho voglia di fare avanti indietro è chiaro grazie speriamo che tutti quei blocchi dentro non diano problemi al meccanismo ok direi che è perfetto anzi non è perfetto perché qui davanti va chiuso e per fortuna mi sono tenuto le scale quindi vediamo un po' una due tre quattro e cinque proviamo a vedere come va ok senza alcun problema senza alcun problema a scendere allora dato che ho con me delle lampade una qua e una qua sono portato proprio queste lampade apposta signori allora tu vai qui e tu vai qui ci piace? si ci piace allora sapete che forse ho fatto una cavolata? no non ho fatto una cavolata guarda questo unico blocco mi torna utile forse a me ne servivano due può essere sì può essere terra e uno va messo qua ok qua uno o due e allora è fantastico è fatto apposta mob qua intorno guerre varie niente perfetto signori signori allora da qua già va bene dobbiamo trovare solo il modo di mascherare là dietro e forse ce l'ho al modo allora vediamo un po' ripiazziamo questi blocchi forse un po' troppo sopra ahia attenzione attenzione qui abbiamo praticamente il giro di redstone allora noi facciamo così è accucciato bravo santolino vediamo un po' se io mettessi questi qua davanti potrebbe essere un qualcosa da prendere come diciamo fantasioso ma a nostro favore io direi proprio di sì guardiamo un'occhiata sì 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 iniziamo a uscire un attimino l'unica cosa che mi triggera un po' sono questi bottoni così però se riesco a imparare bene la redstone nell'eventualità posso trovarmi più comodo qui abbiamo molto di più da coprire qua è un bel problema allora allora tu qua su non ci può andare io non ci posso arrivare ecco vedi ma fa un po' di casino però eh ok allora 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 prima di tutto chiudiamo da questo lato abbiamo già chiuso dovremmo chiudere dall'altro però lì abbiamo un giro di redstone mmm allora sapete cosa facciamo torniamo a farci un pisolino così attiviamo un attimino il nostro tagliapietre allora iniziamo a crearci prima di tutto 26 no aspetta 10 di questi ti voglio tutto il resto ce li facciamo con questo tipo di blocco mettiamo le luci abbiamo un po' tutto dovremo riuscire a completarlo oggi eh allora e su allora iniziamo a ragionare un attimino su come fare il tutto prima di tutto io metterei le luci qua una e due perfetto per me vanno già benissimo qui davanti metterei questi perfetto giocherei con questi qua in mezzo si 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 questi ci stanno benissimo perfetto qui metterei questo e poi andrei a chiudere con i blocchi normali ecco tu lì non ci dovevi andare tanto la carne non ci serve che mi abbraccio facciamo così ok sembra che stia prendendo piano piano forma siamo su quest'altro lato così abbiamo modo di provare a completare un po' il tutto allora abbiamo detto che di qua c'è non ho capito quel blocco lì come funziona però aspettate un attimo allora qui abbiamo 2 2 1 quindi 1 qua sotto 1 2 e perfetto sopra qua dovrebbe andare con questi qua e tu non sei in mezzo vero non sei in mezzo peccato avresti stata una bella cosa e 1 2 andiamo di qua posso salire qua sopra sì 1 2 torna giù perfetto e vorrei chiudere con 1 2 e 5 perfetto signori speriamo vada bene speriamo allora facciamoci un po' indietro tiriamo giù tutta questa costruzione momentanea di terra e poi l'ultima cosa che ci resta da fare l'accetta l'accetta dove sta l'accetta mia eccola qua le slab ce le abbiamo iniziamo a spaccare spaccare questi e voi direte ma santorino perché spacchi questi ve lo dico subito signori miei invece che rompere tutto noi li possiamo figurare al pari di un gradino e quindi giocarcela così quindi vedete al pari di un gradino noi rimaniamo con la nostra scalinata normale si scende e via a posto si ci piace si adesso possiamo anche inalzare questi perfetto uno qua e uno qua va benissimo non vi preoccupate va benissimo allora diamo un'occhiata signori a me piace speriamo funzioni tutto 3 2 1 prova è quello sotto vai si entra tranquilli e si chiude tutto signori è perfetto è perfetto forse un po' meno sarà perfetto da questo lato perché con il giro della redstone fa quel lavoretto che di qua siamo riusciti a pareggiare in questa maniera ma amen cioè non siamo qua per essere perfetti perfetti no 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 è perfettissimo noi possiamo venire qua scusate villici possiamo venire qua trovare i villici andarcene e loro praticamente sono là dentro al sicuro cioè questa è la felicità in minecraft grazie recuperiamo un po' di materiali adesso rimane il lavoro da fare qua sotto ma qua penso che andrò a fare un po' di riempimento con la terra e andrò a chiudere tutto perché è l'unica cosa che ci si può fare qua diamo un'occhiata però su come è messo qua su ok sapete che forse uno potrei toglierlo però non vorrei rimanere troppo attaccato ok poi comunque vuole dare sempre un po' qualcosa di stile montagna grotta cavernosa roba così insomma ci siamo capiti no si stiamo giocando su questa qua quindi qua dentro lo lasceremo libero va benissimo va benissimo poi giustamente adesso è un po' un buttare terra così sia chiaro è solo buttare un po' di terra poi andremo a fare tutto quanto per il meglio ma devo dire la verità signori a me già mi piace così adesso non so qua come fare a evitare che si ghiacci tutto quindi sto eventualmente valutando di metterci della lava qua sotto dovrei cambiare le colonne però signori si fa metteremo anche qua le due staccionate che mancano ma io direi signori che per il momento può bastare il nostro super super iper mega attenzione no perché che non so giocare in terza persona mannaccia ok aspetta rifacciamola aspetta jack due tantolino posizionati girati terza persona ok così un po' manco a cascare signori il nostro mega cancello è finito automatico attenzione poi andremo adesso a ornamentare tutto quanto ma questo in un prossimo video nel frattempo io continuerò a raccogliere le zucche all'interno del villaggio e a rimpolpare le nostre difese dato che abbiamo visto che da quella parte funzionano alquanto bene andremo a rimpolparle un pochettino tutte quante e sto pensando effettivamente di lasciare anche all'interno del villaggio qualche golem di neve e gironzola così un po' di compagnia ma nel frattempo ragazzi io vi saluto con questo è tutto alla prossima grazie a tutti